A noi in questo momento qua dobbiamo guardare a noi, l'ho detto sempre, dobbiamo migliorare perché ancora non siamo una squadra importante che può dominare su tutti i campi. Un piccolo passo in avanti in attesa di diventare capaci di imporsi su tutti i campi. In casa Bari il pareggio a reti bianche di Catania, prima partita dell'era Vivarini senza gol all'attivo e quinta su sette incontri con un clean sheet tra i pali, è stato accolto con moderata soddisfazione. Se le distanze dalla vetta occupata dalla regina sono cresciute a sei punti, le frenate di Ternana e Potenza hanno permesso a Dante Nucci e compagni di avvicinare la seconda piazza e garantire continuità a un cammino che in poco più di un mese sotto la guida dell'allenatore abruzzese ha assicurato 15 punti. Ancora manca quella continuità di azione, quella forza e ancora quella voglia di ottenere il risultato, quindi in questo momento il pareggio è più che positivo. Al Massimino nel corso dell'ultimo quarto di gara si è visto un Bari diverso nell'atteggiamento tattico. Per la prima volta dal suo arrivo in panchina, Vivarini ha testato il 4-3-1-2, suo marchio di fabbrica Empoli-Ascolimbi, con l'innesto di Floriano alle spalle delle punte, esperimento che potrebbe essere ripetuto più in avanti a patto di mantenere gli equilibri sin qui garantiti alla nave bianco-rossa e cercare un pizzico di coraggio in più. Bisogna dare atto che i ragazzi in questo momento qua ci mettono tanta volontà e tanta applicazione. Guardiamo a noi, pensiamo a diventare quella squadra che noi tutti vogliamo e poi si fanno i conti di marzo-aprile per vedere tutto il resto. Con la lente di ingrandimento sul centrocampo, dove Amlili e ancora i boxe, Bianco e Scavone non hanno avviato la settimana lavorando con i compagni, il Bari si avvicina a una cinquina di incontri potenzialmente abbordabili. Vibonese e Teramo in casa, Biceglie e Paganese rende in trasferta. Tutto dal 3 novembre al 1 dicembre. Primo non prenderle, secondo osare. Solo così sarà possibile rosicchiare punti alla regina capolista. Grazie. Grazie.